Vorrei dire una cosa, è vero che il tema è complicato, però si rimproverano sempre la Lega e i 5 Stelle, i populisti in generale, di voler abbassare il livello, di essere i barbari cattivi con l'anello al naso. Una volta tanto che si parla di una cosa che sarà pure complessa, ma si può spiegarla. Infatti bisognava andare in Parlamento, spiegarla e spiegarla meglio agli italiani tutti, perché è una cosa rilevante. Ma il punto non è solo i 5 Stelle che scrivevano che andava smantellato ancora prima dei cambiamenti, i 5 Stelle sono anni che lo dicono, io l'ho ripetuto su questa rete. Ma c'era nel loro programma elettorale semplicemente. Esatto, loro vanno avanti a dirlo, noi facevamo una trasmissione su questa rete alcuni anni fa, dove venivano esponenti dei 5 Stelle, parlavano del meccanismo europeo di stabilità, dicevano che non andava bene, che era un cappio e tutto quanto. Idem la Lega, persino qualcuno del Partito Democratico...